Gentile aziende, buongiorno e bentrovate! Eccomi con le promozioni di questa settimana. In vetrina, nel mio negozio Larana.it, potete trovare Monitor Touchscreen LCD DLG. È un monitor multifunzione che rende qualsiasi operazione molto intuitiva e diretta, grazie alla tecnologia di cui è dotato che lo rende sensibile al tatto. Non necessita infatti dell'utilizzo di un mouse, poiché è possibile effettuare qualunque tipo di operazione con la semplice pressione di un dito. È lo strumento ideale per un ampio spettro di applicazioni. Può essere incorporato in postazioni informative, collegate in luoghi pubblici ed esercizi commerciali, per facilitare la clientela nella scelta di un prodotto o di un servizio. In agenze di viaggio, per scegliere il proprio vuole o vacanza, nei ristoranti, per gestire le ordinazioni, nelle industrie, per il controllo dei macchinari, ma anche nell'ufficio, per tutte le applicazioni di ogni giorno. Venite a scoprirlo nel mio negozio. In vetrina trovate anche il fax T106 di Brader. È un fax a trasferimento termico su carta comune. Il moderno fax con dispositivo di chiamata a viva voce e segreteria telefonica digitale. I numeri dei dissenatari più frequenti possono essere memorizzati e richiamati rapidamente grazie alla funzione di selezione diretta. La funzione di selezione voce permette invece di comporre fino a 100 numeri memorizzati tramite il dispositivo di navigazione. È in offerta questa settimana. Venite a scoprirlo nel mio negozio. In vetrina questa settimana trovate anche la cucitrice K1 Rapid. È la cucitrice a pinza più venduta al mondo. La scelta scontata per uffici postali, negozia e gli uffici. Trovate in promozione anche la cassettiera Modula 4 Big, ideale per organizzare lo spazio di lavoro e come supporto per stampanti, fax e altre macchine per l'ufficio. Sulla Rana.it trovate tantissimi prodotti per l'ufficio. Venite a scoprirli. Vi aspettiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!